Quali sono le condizioni effettive di vita degli anziani ultraottantenni nelle grandi città? Dopo l'appello di Papa Francesco proviamo a capire come vivono effettivamente le persone che non trovano posto nelle residenze specializzate, falcidiate dal coronavirus in questi ultimi mesi. Siamo andati a vedere come lavora Viva gli Anziani, il progetto dedicato alla terza età dalla comunità di Sant'Egidio in tutta Italia. Le difficoltà degli anziani sono moltissime, la principale è proprio l'isolamento, l'isolamento sociale che non nasce con il lockdown, ma è una condizione che si è sviluppata soprattutto negli ultimi anni con la crescita della società urbana. Sono oltre 20.000 gli anziani ultraottantenni contattati da Sant'Egidio da quando funziona il progetto. Le persone spesso hanno bisogno solo di una telefonata di compagnia o degli auguri il giorno del compleanno, ma la voce amica dona tanta amicizia. Durante la quarantena per il virus le difficoltà sono aumentate. Abbiamo fatto tantissimi interventi di consegna della spesa a domicilio, dei farmaci e pratiche burocratiche che erano impossibilitati a fare. E poi man mano che è andato avanti il lockdown invece si sono verificate tantissime richieste di aiuti economici ed alimentari. Un ruolo importante hanno i giovani che sono presenti da sempre nell'impegno di Sant'Egidio per gli anziani. Abbiamo un gruppo di giovani sia liceali che universitari che ci aiutano, che già da prima dell'appello del Papa si erano sforzati di trovare dei modi nuovi di comunicare con gli anziani, quindi magari con delle videochiamate, con delle visite sotto gli istituti o sotto casa, lì dove non si poteva andare a trovare gli anziani più da vicino.